Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa mi trovo qui con la madrina di Lazio Star E-World ecco voi Francesca Brandi Buonasera a tutti, eccomi qua a questo incontro inaspettato e che dite ragazzi? Il salutatore doveva incontrarti, sono io che ho beccato te E' lui che ha beccato me e allora inizia la serata E facciamo un saluto a tutti i tuoi fan che ti seguono Ciao Ecco un saluto particolare a tutti i fan del paradiso delle signore Ecco qui e ho per te Manila del Salutatore Ciao a tutti, buona serata Ciao